Buonasera amici sportivi di Teleiride, buonasera da Fabio Ferri, bentornati al nostro appuntamento con T-Sport, ultimo appuntamento della settimana per la nostra rubrica di approfondimento sul mondo sportivo della provincia di Firenze e della regione toscana, ultimo giorno della settimana per noi di T-Sport e come di consueto facciamo un punto su quello che sarà il weekend sportivo, quello che attende tutti gli appassionati del mondo del pallone e non solo per questo fine settimana. Partiamo ovviamente dalla Serie A, dalla Serie A di calcio con gli appuntamenti che attendono Fiorentina ed Empoli, a partire dalla gara di domani del Bentegodi di Verona, quando alle 20.45 sul terreno di casa del Chievo Verona scenderà in campo la Fiorentina di mister Paolo Sosa. Tre giornate al termine, il primo appuntamento appunto verso la conclusione della stagione è quello contro i Clivenzi che vanno a caccia del record di punti in Serie A, detenuto dalla squadra allenata del 2005-2006 da Pilon, di fronte a una Fiorentina che invece con tre punti può consolidare il suo posto all'interno dell'Europa League. Noi facciamo un bilancio, proviamo a anticipare i temi della gara attraverso il servizio d'apertura realizzato dal nostro Niccolò Ghinassi. Gli interrogativi relativi alla futura panchina gigliata si districano attraverso la 36esima giornata di Serie A, nella quale la Fiorentina farà visita al Chievo Verona di Rolando Maran. Sì, perché i cugini dell'Ellas hanno disputato un ottimo campionato sinora, racimolando 48 punti e trovandosi a solo 5 lunghezze dalla sesta posizione occupata dal Milan, trainati da un tecnico che della gavetta ha fatto la sua forza e che vorrebbe ora misurarsi alla guida di una squadra di alto livello. Non sapendo con certezza il futuro di Paolo Sosa, ecco che allora a Firenze si sono fatte molte ipotesi, tra le quali spuntava quella di un possibile ingaggio di Maran sulla panchina dei Viola per la prossima stagione. Vero, Andrea Della Valle vorrebbe confermare Sosa, ma da qualche tempo gli gira in mente il nome di questo operaio del pallone, allenatore non certo sotto la luce dei riflettori, ma molto competente ed in attesa della grande chance, che intanto domani alle 20.45 si troverà davanti una Fiorentina guerrita in cerca di rivincita dopo l'immeritata sconfitta contro la Juventus. L'assetto dei gigliati dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Tomovic, Gonzalo e Dastori davanti a Tatarusanu, un centrocampo composto da Teglio, Badel, Borca Valero e D'Alonso ed una tre quarti occupata da Bernardeschi ed Ilicic in appoggio a Nicola Kalinic. Assente sarà sempre Vecino, per il quale l'infortunio muscolare sembra più grave del previsto, mentre se Ilicic dovesse dare forfee, scalpita già Mauro Zarate, per il quale non è esclusa una partenza dal primo minuto. Nel Chievo, invece, con Spolli squalificato, Maran si affiderà all'ex Gamberini, in coppia con Cesare in difesa. A centrocampo, poi, è ballottaggio fra Radovanovic e Rigoni, mentre Pepe contende il posto a Birza sulla tre quarti. Possibile la presenza in attacco, inoltre, di Floro Flores al fianco di Maggiorini. All'andata, finì 2-0 per i Viola al Franchi, con la coppia Ilicic-Kalinic che regalò una vittoria ai Toscani che fece chiudere alla Fiorentina un 2015 da seconda in classifica. Ora lo scenario è ben diverso, con i Viola che a tre giornate dal termine si trovano a dover mantenere il quinto posto, con un'incertezza della compagine gigliata, soprattutto per quanto riguarda la sua prossima guida, data la promiscuità delle dichiarazioni del mister Lusitano della Fiorentina, che intanto domani cercherà di espugnare un Bentegodi, che spesso ha visto la squadra di Maran trovare fortuna tra le mura amiche. E come detto appunto Fiorentina in campo domani alle 20.45 al Bentegodi per affrontare la Chiavo Verona. A proposito dei Viola, tiene ovviamente con il fiato in sospeso la situazione di Ilicic, anche se oggi nella conferenza stampa delle 13.30 Paolo Sosa ha confermato che le condizioni dello sloveno sono in netto miglioramento, anzi sono più che positive, discorso diverso invece per Mattias Vessino, lontano da un recupero, probabilmente out per la gara contro il Chiavo. Noi andiamo proprio ad ascoltarci adesso, un passaggio della conferenza stampa realizzata quest'oggi, appunto alle 13.30, con Paolo Sosa che ha parlato proprio di questo Chiavo particolarmente in forma, di questo Chiavo che va alla caccia di un primato di punti in Serie A e che lo fa attraverso il gioco e le grandi idee di un tecnico come Rolando Maran, che come abbiamo detto anche nel nostro servizio d'apertura è sicuramente in rampa di lancio. Una squadra che sta bene, una squadra che ha dei principi acquisiti praticamente da sempre e che riesce a fare delle prestazioni molto importanti. La nostra partita qui a casa abbiamo fatto noi una partita importante, nel senso di non concedere praticamente nulla al nostro avversario, che ha qualità, che ha riuscito dentro della pazienza di muovere il blocco difensivo del nostro avversario per trovare gli spunti giusti, nei momenti giusti sia sul cordo laterale sia sul cordo centrale per creare i far dei gol, che ci ha concesso dopo a vincere. Per questo sarà una partita che credo io dentro della stessa idea, visto che è una squadra che non ha cambiato, praticamente ha cambiato un giocatore, ha perso una punta che è andato in premia, ma comunque la idea è sempre la stessa e la fanno con molta convinzione, con qualità anche. A proposito di Fiorentina si è parlato abbondantemente in giornata della gara contro il Chievo, ovviamente l'avvicinamento alla gara tiene banco, ma non ci si dimentica neanche di parlare di futuro. Con tre partite al termine della Serie A, i Gigliatti devono pensare anche al mercato, con ovviamente il primo nodo da sciogliere che riguarda Davide Astori, per lui è obbligatorio il riscatto dalla Cagliari, con una cifra che si accira intorno ai 4 milioni di euro più uno di bonus. Per quanto riguarda la situazione dei Viola, però ovviamente si deve tenere conto anche delle offerte e delle sirene che tentano i giocatori della Fiorentina e che se non altro verranno ascoltate dal club di Via Manfredo Fanti, perché attraverso l'accessione di uno dei talenti attualmente in rosa si potrà finanziare poi il mercato della prossima stagione. In Inghilterra piacciono molto Kalnic, Babacar e Ilicic e proprio questi giocatori potrebbero essere ceduti, almeno uno di questi potrebbe essere ceduto per creare un tesoretto. Non si parla però solo del mercato in uscita e in entrata per quanto riguarda i calciatori, ma si parla anche del futuro dell'allenatore ormai da qualche settimana con insistenza, perché la telenovela tra Paolo Sosa e la famiglia della Valle ancora non si è arrestata. Nessuno dei due soggetti in causa ha dato una risposta definitiva e allora anche oggi in conferenza stampa si è tornati sul futuro di Paolo Sosa e su quello della Fiorentina. Guarda, io credo che sono stato molto chiaro da sempre che io lo faccio tutti i giorni e sempre che abbiamo la possibilità e i bisogni di farla. Sono stato sempre molto frontali cercando sempre di disporre la mia idea sia sul piano tecnico-tattico sia anche strutturale per una crescita comune, in una ricerca di risultati comuni. Comunque io credo che nella vita è meglio tardi che mai, questo è un principio. Comunque ho parlato già anche diverse volte di diversi modelli sportivi, di varie società e questo, solo quelli che comandano, che sono il topo della piramide, che possono definire il modello sportivo che vogliono. Con chi? Con i profili delle persone che lavorano o che esecutano tutto quello che loro pensano. Per questo io posso avere tutte le mie idee, io le ho già passate e molto presto. Ho fatto la mia valutazione, la mia analisi, sempre che ho avuto l'opportunità, ho sposto di quello che secondo me è quello che ho visto e quello che secondo me potevamo crescere insieme. Dopodiché posso continuare come ho continuato a lavorare sui punti che secondo me sono importanti e che coinvolgono, che riflettono nel risultato pratico della partita dei ragazzi. Però dopo io mi devo direzionare esclusivamente al mio campo, non posso prendere un role che non è il mio. Abbiamo parlato di Fiorentina, abbiamo ascoltato le parole di Paolo Sosa nella conferenza stampa di oggi. Adesso spostiamo l'attenzione sull'altra squadra toscana di Serie A di calcio. Ovviamente stiamo parlando dell'Empoli, un Empoli già salvo e dunque certo della permanenza nel massimo campionato, nel campionato di Serie A e che adesso deve solo pensare a terminare il campionato in maniera migliore possibile. L'onore da difendere sicuramente, come ha ricordato più volte mister Giampaolo, e anche la voglia di mettersi in mostra per tanti giocatori che dalla prossima stagione potrebbero proprio lasciare il club empolese. L'occasione giusta sicuramente è la partita di domenica alle ore 15, infatti al Castellani arriva il Bologna. E dunque una sfida per cercare ancora di dimostrare quanto buona è stata la stagione azzurra. Non sarà un incontro tra due squadre in situazione critiche, quello tra Empoli e Bologna, che andrà in scena domenica alle 15 al Castellani, con azzurri e rosso-blu, che hanno già chiuso virtualmente il discorso salvezza. 40 punti per gli emiliani, 42 per i toscani, con questi ultimi, che a tre giornate dal termine del campionato, non sentono addosso la pressione derivante da una possibile retrocessione, avendo 10 punti di vantaggio sulla terz'ultima a Palermo. L'aritmetica non garantisce semmai al Bologna la permanenza in Serie A, ma con sole tre giornate da giocare e otto punti di vantaggio, gli emiliani non dovrebbero correre grossi rischi, anche se un risultato favorevole ad Empoli chiuderebbe definitivamente il discorso salvezza. Ma Giampaolo e Di Suoi non saranno sicuramente in vena di regali, e nonostante i problemi di infermeria, gli azzurri cercheranno allora di sfoderare una buona prova davanti al proprio pubblico. Nella retroguardia mancheranno ancora Laurini e Tonelli, che saranno sostituiti ancora da Abittante Ozambelli il primo e da Cosici il secondo, con Costa e Mario Rui a completare il reparto. Cambiamenti poi nel centrocampo a tre dei toscani, che assieme a Zielinski e Croce vedrà uno tra Buckel e Diussè occupare un posto in mediana. Coppia d'attacco, composta infine sempre dal solito duo Pucciarelli-Maccarone con Saponara e Rimorchio sulla tre quarti. Per il Bologna, invece, assenti Mattia Destro, Morleo, Zucculini e Rossettini, con Donadoni, che schiererà un tridente dietro all'unica punta Sergio Flocari, composto da Monier, Brienza e Giaccherini. Da parte loro, gli azzurri avranno comunque, oltre al vantaggio di poter giocare senza pressione, anche quello di essere usciti vincenti dalle ultime due sfide contro gli Emiliani in Serie A, dopo aver ottenuto invece quattro pareggi e tre sconfitte nelle precedenti sette. Giampaolo e Diussuoi proveranno allora ad allungare la serie, cercando di festeggiare, nel migliore dei modi, sul proprio campo, una salvezza raggiunta già con tre giornate di anticipo. Non parliamo solo di calcio in questa edizione odierna di T-Sport, ma ovviamente parliamo anche di basket, in particolar modo della Serie B di basket del Girone B. Terminata la regular season, vi abbiamo raccontato dell'ultima vittoria della Fiorentina Basket, che nello scorso weekend ha battuto Varese. Adesso è il momento però per la squadra di Salieri di concretizzare gli sforzi di questa tribolata stagione e di ottenere la vittoria nel play-out per consentire proprio al nuovo sudalizio cestistico fiorentino di mantenere la categoria, di mantenere la Serie B. I play-out cominciano domani sera al palazzetto di San Marcellino, infatti arriva la PMS Basketball, Teleiride ovviamente ci sarà e a partire dalla prossima settimana vi riproporremo la replica della gara 1 dei play-out di spareggio. Intanto però noi scendiamo nell'analisi di questa gara, sempre attraverso le parole del nostro Nicolao Ghinassi. Arriva l'ora della verità per la Fiorentina Basket, che si appresta a disputare la sua prima gara dei play-out per mantenere la categoria. In programma domani alla palestra di San Marcellino alle 21.15, infatti, il primo incontro tra Fiorentina Basket e PMS Moncalieri con la Viola, che avrà il vantaggio di disputare in casa le prime due gare grazie alla migliore classifica con la quale ha concluso la regular season. Sì, perché i Gigliati, dopo la vittoria contro Varese nella trentesima ed ultima giornata, hanno concluso la stagione a 22 punti a pari merito con Alto Sebino e Rimadesio, che però, a causa di una differenza canestre a favore, sono riusciti ad evitare il rischio play-out. Rischio nel quale si trovano ad ora, invece, gli uomini di Salieri, già decimati dagli infortuni nel corso della stagione, ma che nella sfida contro Moncalieri potranno disporre Didi Giacomo e Facchino, anche se non al meglio dopo gli ultimi acciacchi. Dalla loro, i Fiorentini avranno anche il fattore campo, oltre al fatto che hanno già battuto due volte in campionato gli avversari, anche se questi, nel frattempo, hanno esonerato coach Giacomuzzi ed ha giunto Villani durante l'ultimo mercato di riparazione, giocatore di esperienza arrivato dopo il fallimento dell'Azzurro Napoli. PMS potrà contare su un roster più lungo dei Fiorentini, allora, che devono anche recuperare la condizione fisica ottimale, ma i ragazzi terribili di Salieri hanno dalla loro la qualità e la voglia di raggiungere la salvezza, terminando al meglio una stagione caratterizzata dagli infortuni delle sue piedine principali, Valentini su tutti, e nella quale i Viola sembravano subito spacciati. Ora Salieri ed i suoi sono però lì, pronti ad aprire le danze in una gara 1 play-out che si preannuncia caldissima. Sabato, giornata di grande sport per la città di Firenze, perché, come avete sentito, alle 21.15 al Palazzo di San Marcellino andrà in scena gara 1 degli spareggi play-out con la Fiorentina Basket che affronterà la Almag PMS Basketball nel tentativo di mantenere la Serie B. Ovviamente una gara che richiamerà tanto pubblico anche perché la società fiorentina ha deciso di ridurre il costo del biglietto ad un solo euro, un'occasione dunque per tutti i tifosi di Firenze di guardare una partita a un prezzo davvero contenuto e anche ovviamente un messaggio da parte della società Viola di vicinanza al proprio pubblico, una vicinanza che ovviamente spera la squadra Viola possa far comodo proprio per sospingere gli atleti in campo a una vittoria e dunque a ottenere almeno un piccolo mattoncino nella rincorsa alla salvezza. Importante l'aiuto del pubblico, come detto in precedenza, a partire dalle 21.15 la gara alla Palazzetto di San Marcellino con l'ingresso a un euro, davvero un prezzo vantaggiosissimo. Non solo però, come detto, la gara delle 21.15 perché è un grande sabato sportivo per tutto il Comune di Firenze e allora si partirà alle ore 15 sempre a San Marcellino però sul rettangolo verde del campo da calcio con la partita tra Ferentina femminile e Luserna con la squadra del mister Sauro Fattori che cercherà di ricucire il ritardo in classifica rispetto al secondo posto che, come sappiamo, vale per l'accesso alla prossima Champions League. Allora, importante questa gara, importante per la squadra di Fattori cercare di vincere contro Luserna e ovviamente per ottenere il secondo posto in classifica non basterà vincere ma sarà necessario sperare anche nei risultati positivi per la Fiorentina delle altre squadre in lotta per la seconda piazza nel campionato di Serie A di calcio femminile. Adesso ricordo anche che alle 16 di sabato si giocherà invece nella piscina di Bogliasco la gara tra Bogliasco e Rarinantes gara valevole per la Serie A 1 di pallannuoto maschile con la Rarinantes che dovrà in tutti i modi provare a mantenere il penultimo posto in questo finale di stagione per cercare di centrare almeno l'obiettivo minimo dei play-out e dunque importante anche questa gara per la Rarinantes ma appunto non è l'unico appuntamento importante della giornata di sabato abbiamo già detto del basket, abbiamo già detto della Fiorentina femminile abbiamo detto della Rarinantes, dunque della pallannuoto ricordiamo infine attraverso il prossimo servizio anche che a partire dalle 18 si terrà la gara di prima divisione di football americano con i Guelfi Firenze che ospiteranno al Guelfi Sport Center le Aquile Ferrara per la prima gara del girone di ritorno per quanto riguarda il girone centro-sud del massimo campionato di football americano noi andiamo a ascoltare tutti i dettagli nel prossimo servizio La prima striscia utile dei risultati è in corso i Guelfi Firenze, iniziato il loro cammino in prima divisione con tre sconfitte esterne consecutive adesso sono reduci da due successi importanti con Warriors e Grizzlies e nel prossimo turno affronteranno le Aquile Ferrara per il primo match del girone di ritorno gli estensi sono stati infatti la prima formazione affrontata dai Viola in questa stagione d'esordio in prima divisione All'andata il confronto fra le due squadre fu molto tirato con i fiorentini che si portarono in vantaggio con il field goal di Simone Petrucci ma che alla fine della gara si ritrovarono sconfitti con uno scarto di soli 4 punti fu infatti 21 a 17 il risultato finale una differenza minima che ancora oggi però divide le due squadre separate in classifica proprio dallo scontro diretto dato che ad oggi gli estensi occupano il terzo posto in graduatoria con un record di tre vittorie e due sconfitte mentre i toscani sono all'inseguimento proprio della squadra di Ferrara con una sola partita di ritardo il match di ritorno si disputerà domani alle 18 al Guelfi Sports Center e sarà preceduto dall'inaugurazione ufficiale dell'impianto alla presenza del sindaco di Firenze da Leonardo in caso i Viola dovessero vincere la stagione potrebbe assumere prospettive insperate e da una semplice salvezza si potrebbe cominciare a sperare in una proda ai playoff in caso di vittoria infatti i Guelfi potrebbero piazzare un allungo decisivo sulla zona retrocessione se poi il risultato positivo dovesse arrivare con più di 4 punti di scarto fra le due squadre si verificherebbe anche il sorpasso in classifica proprio grazie al ribaltamento del parametro della differenza punti negli scontri diretti della gara ha parlato Filippo Martelli, coach gigliato dei defensive backs che ha dichiarato la sconfitta dell'andata brucia ancora è stata un esordio positivo contro una squadra che si è rinforzata molto prima dell'inizio del campionato ci aspettavamo una sfida difficile ma perdere con una distanza così ristretta nel punteggio lascia un po' di amaro in bocca vincere nel match di ritorno sarebbe un passo decisivo nell'assestare un colpo agli avversari che attualmente si trovano dietro di noi in classifica e ci permetterebbe di rinforzare di molto il nostro quarto posto o addirittura di scavalcare proprio le Aquile Ferrara sul gradino più basso del podio del Girone Centro-Sud e ovviamente anche i Guelfi Firenze sono una grande esclusiva del pacchetto sportivo offerto da Teleiride vi ricordo che a partire dalla prossima settimana potrete rivedere sui nostri teleschermi la gara della Fiorentina femminile contro il Luserna e la potrete vedere lunedì nella serata, nella tarda serata dopo l'appuntamento con Viola Express che comincia come sempre alle 21.50 di lunedì e ovviamente dopo questo appuntamento con Viola Express prenderà il via proprio la replica della partita della Fiorentina femminile nel corso della settimana poi vi offriremo nel pomeriggio sport anche la gara della formazione di basket della Fiorentina Basket appunto impegnata nei play-out per non retrocedere e ovviamente poi offriremo anche la gara dei Guelfi Firenze di cui parlavamo in precedenza e ovviamente poi nel telegiornale del lunedì vi offriremo anche le immagini della presentazione ufficiale del nuovo Guelfi Sports Center a cui come avete sentito prenderà parte anche il primo cittadino di Firenze Dario Nardella Andiamo a concludere il nostro appuntamento di T-Sport parlando anche di tennis perché è stato presentato il 34esimo torneo internazionale Under 18 Città di Prato che si giocherà dal primo all'otto maggio sui campi del TC Prato per uno spettacolo tennistico unico la manifestazione si contraddistinguerà come sua tradizione per la presenza di tanti giovani tennisti provenienti da ben 30 nazioni che cercheranno di conquistare l'affermazione in un torneo che ha visto vincitori prestigiosi un torneo che mette in campo i migliori giovani tennisti del mondo spiega il presidente del TC Prato Alessandro Colzi la tradizione vede tanti campioni che hanno calcato i campi del TC Prato e speriamo che anche questi giocatori saranno i protagonisti del futuro presenti alla presentazione le istituzioni come il prefetto Maria Luisa Simonetti il questore Paolo Rossi il comandante dei carabinieri Gabriele Stifanelli e il comandante della guardia di finanza Amedeo Farruggio Prato è come ricorda il questore Paolo Rossi una città viva dal lato sportivo e accoglie tanti piccoli campioni è la dimostrazione che lo sport può davvero unire e invece Luca Vannucci ha commentato Prato è un punto di riferimento di tanti eventi Luca Vannucci ricordiamo lo delegato dello sport del Comune di Prato ha detto Prato è un punto di riferimento di tanti eventi e grazie a questa sinergia possiamo davvero parlare di turismo sportivo sicuramente un bel appuntamento dunque quello del 34esimo torneo internazionale Andericiotto Città di Prato ricordo le date dal primo all'otto maggio dal primo all'otto maggio prende il via a questa importante manifestazione tennistica che nel suo palmarès vanta anche le partecipazioni di Roger Federer Andy Murray Tommy Haas e tanti altri tennisti davvero di grande livello è tutto per quanto riguarda questa edizione di T-Sport io non posso far altro che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Tele-Irde ovviamente poi ci ritroviamo qua sempre alle ore 19 a partire da lunedì torneremo con tutte le tematiche sportive della provincia di Firenze e della regione toscana da parte mia un saluto arrivederci alla prossima settimana a partire di Firenze